Da qui si spreme la testa, come se dovessimo togliere qualcosa da parigola. Chi ha i capelli continua finché non finiscono i capelli. Chi ci allunghi si ferma. Scendiamo con i tagli delle mani lungo il percorso. Chi appendiamo sul pozzo della spalla. Diciamo che la zona muscolare tra spalla e collo, tra spalla e vertebre, centrale, è il pozzo della spalla. Quindi, dopo si ci appendi, si passa sopra il pozzo della spalla, ci si sofferma l'asporgenza celeste, Tiantù. Si scende lungo lo sterno, arrivati alla pancia. Ogni volta che ce la massaggiamo cresce sempre di più, cresce sempre di più, lievita. Lo so che non è bello perché oggi magari se beviamo la birra la cresce per altri motivi. Quindi l'idea sarebbe essere magrissimi e farla crescere. Non essere, sai, in partenza. Dove se amagrissimi e farla crescere. Allora sì. Ancora. Spreme. Fai qui. Centro. Rigno. Spreme, 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 spreme. Resta è gradevole. Impariamo a farci del bene. Non siamo molto abituati. Finiscono i capelli. Li scende. Con i tagli delle mani, gli stuccelle. Si si affende. Sono dei punti più importanti di chi si fa. Quindi, polmone. Si arriva a sporgenza celeste. Linea centrale. Linea centrale. Pancia. Lievito. Ancora. Ancora. Polo di l'aria. Vento l'aria. Atmezzo. Polo di l'aria. Aspiri lunghi. Libera, libera, libera. Bene. Tutti gli animali. Ce li abbiamo fatti. Li facciamo tutti da inizio da fuori. Si prende, si spreme la testa come dicevamo ieri Scimiotto che aveva il filo di ferro, lo zucotto. E Tripitaca, quando lui combinava i guai, le recitava il mantra, lo zucotto si stringeva facendo divenire una di testa per punirlo dei suoi danni. In realtà era quando si comportava bene, i poverini. Quindi. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.